buongiorno a tutti cercherò di rendere interessante questa mia conversazione questo mio intervento perché so che avete già fatto tante interviste a tanti piloti avete dipinto al volo diciamo in tutte le sue declinazioni quelle emergenziali quelle ordinarie e quindi ecco io non mi aggiungerò a questo perché avete già detto moltissimo magari qua e la qualche sensazione l'avrà anche il volo però vorrei parlare atteso che insomma la carriera di un pilota e di un ufficiale ha delle ripetitività insomma è difficile trovare qualche cosa di veramente originale andando a ripassare un po tutta la mia carriera così lunga 43 anni nel 1961 al 2006 esattamente 45 anni ho cercato di trovare qualche cosa che potesse essere una peculiarità una specificità che non ha contraddistinto diciamo il percorso dei miei colleghi anche quelli che sono arrivati al vertice come ho avuto fortuna di avere io e comincerò diciamo da quello che io ritengo l'argomento più importante non soltanto perché ha contraddistinto più di più della metà del mio percorso in aeronautica ma anche perché diciamo non come la mia storia la storia tutti gli altri deve essere archiviata sic simpliciter come un semplice ricordo ma perché ci sono delle prospettazioni dei messaggi importanti da consegnare anche al futuro e sto parlando della tragedia di gustica vorrei riassumerla molto in breve perché è una storia di 44 anni fa quasi e quindi e tanti degli ascoltatori non la ricorderanno la conosceranno neanche il 27 giugno del 1980 un velivolo italia precipita in mare all'arco di ustica durante un ordinario volo da bologna a palermo si avviano le indagini l'aeronautica ne è fuori perché ritiene di esserne fuori lo è perché essendosi trattato di un velivolo civile era il ministero dei trasporti che doveva indagare l'aeronautica da tutte le informazioni i tracciati rata alle comunicazioni tutto quello che poteva essere utile indagine e non se ne occupa più fino a quando dopo 45 anni forse sei dall'evento quindi a metà degli anni 80 qualcuno comincia a mettere in giro la voce che quel velivolo sia stato abbattuto da un missile ecco questa ipotesi mette radici con una rapidità incredibile e intorno a questa ipotesi cominciano a diciamo crescere molteplici versioni su che cosa possa essere accaduto andrea purgatori uno dei tre cantori di questa versione mette insieme 32 versioni diverse della dinamica dell'incidente di chi possa essere stato di come si possa essere materializzata questa tragedia insieme ad andrea purgatori portano avanti questa tesi un magistrato rosario priore e daria bonfietti parente di una delle vittime della tragedia che poi diventerà onorevole insomma e ci sarà sicuramente tutta una una sua dedizione completa totalizzante a diciamo alla più che a cercare la spiegazione di questa tragedia alla al consolidamento della versione del missile ecco tutt'oggi andrea purgatori come sappiamo ci ha lasciato rosario priore sparito dei radar e daria monfietti continuano interessarsi della tragedia dell'ustica in varie forme nel frattempo si avvia il processo processo penale che dopo lunghe indagini dopo 272 odienze dibattimentali dopo l'escursione di quasi 4000 testi dopo la consultazione delle perizie redatte dai più esperti al mondo reperibili sul mercato viene alla verità una verità incontrovertibile che è quella che definisce la battaglia aerea un'ipotesi fantascientifica ecco quindi i giudici penali stabiliscono che diciamo non c'è mai stata una battaglia aerea che intorno a quel velivolo nell'arco di 50 60 miglia non c'era esattamente nessuno e definiscono appunto l'ipotesi della battaglia aerea come più degna della trama di un libro giallo che di un pronunciamento giudiziario questo c'è scritto in un passaggio ce ne sono tanti altri che stroncano in maniera definitiva e inequivocabile le ipotesi di rosario priore questa stessa sentenza viene confermata in cassazione quindi la verità è che quel velivolo è precipitato non a causa di un missile ma di una bomba il fatto della bomba viene si può rilevare da dalle risultanze delle indagini un correggio per italia collegio misiti formato dai massimi esperti al mondo nelle varie discipline esplosivistica aerodinamica radaristica eccetera e tutti i periodi componenti il collegio diciamo individuano nell'unica causa quella di una bomba l'unica compatibile con le risultanze emerse dall'esame del relitto e da altre circostanze quindi oggi noi siamo arrivati ad un punto in cui una tragedia italiana senza ancora responsabili che è stato un vero e proprio attentato di natura terroristica non venga considerato tale dalla giustizia perché la giustizia esattamente non ha mai indagato in questa direzione ha sempre indagato in un'unica direzione quella della battaglia aerea quindi cercando dei colpevoli soprattutto nell'aeronautica ci sono state 85 a soluzioni dico 85 per altrettanti componenti dell'aeronautica e quindi anche questo da una misura di quanto fasulla fosse la tesi del missile che ancora oggi però viene sostenuta da diciamo una corrente di pensiero l'ultima dei quali è quella che fa capo a giuliano amato che se ne uscito un paio di mesi fa con repubblica dicendo che lui sapeva che sono erano stati che secondo lui erano stati francesi ad abbattere quel velio è un'altra cosa per cui gli italiani dovrebbero pretendere delle spiegazioni e perché un'intera classe politica abbia questa volta si realizzando un campo veramente largo e si sia adoperata oltre ogni decenza nel sostenere diciamo questa ipotesi fantasiosa della battaglia aerea ecco sono l'ultimo l'ultima l'ultimo esploit è quello di giuliano amato il quale un giorno confida non più di tre mesi fa forse due tre mesi fa confida repubblica che secondo lui diciamo la spiegazione è quella di un abbattimento da parte di un velivolo francese e argomenta tutto questo naturalmente con tutta una serie di spiegazioni che non stanno in piedi non stanno in piedi perché è stato tutto demolito questo impianto accusatorio sistematicamente compreso con i francesi nei dibattimenti e naturalmente i francesi hanno dato ampia rassicurazione diciamo alle numerose rogatorie che sono state inoltrate verso di loro dal governo italiano ma evidentemente anche questo non è bastato ad amato ea tutti gli altri a diciamo togliere dai 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 sospetti i francesi potrei raccontare di tanti altri esponenti sia politici che istituzionali che hanno 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 sostenuto e continuano a sostenere questa tesi che diciamo praticamente alzano un polverone continua una mistificazione per fare in modo che diciamo non ci si incammini verso la ricerca della varietà questo è molto grave a un altro episodio che io ritengo significativo da questo punto di vista è quello diciamo che ha visto il presidente del consiglio romano prodi anche lui incappare nella questione di ustica la tragedia di ustica perché quando fu pronunciata la sentenza penale assolutoria per l'aeronautica militare romano prodi era presidente del consiglio io ero capo di stato maggiore non mi aspettavo che il presidente del consiglio brindasse con noi come abbiamo fatto finalmente a questa vera e propria diciamo esultanza da parte nostra perché finalmente eravamo stati riconosciuti innocenti finalmente questo calvario era stato riconosciuto come tale dalla giustizia in tutti quegli anni in cui eravamo dei veri e proprio appestati anche all'interno della compagine militare e soprattutto all'interno delle istituzioni che però romano prodi impugnasse la sentenza di secondo grado in cassazione era qualcosa che andava ben oltre diciamo il comportamento che io e tutti i miei colleghi ci saremmo aspettati dal presidente del consiglio romano prodi dice che è stato colto di sorpresa che non conosceva il dossier e che quindi chiedeva scusa all'aeronautica e però e però e però c'è una lettera molto argomentata dell'avvocatura dello stato cui la presidenza del consiglio aveva chiesto un parere prima di impugnare la sentenza di secondo grado e che diceva esattamente presidente lasci perdere perché è perduta non è quindi più argomentazioni in questa lettera dell'avvocato generale stato che dicevano gli sconsigliavano presidenza del consiglio da impugnare la sentenza e portarla in cassazione e naturalmente questa lettera che mi pare sia datata comunque è datata diciamo in una data in cui romano prodi era presidente del consiglio ecco direbbe il contrario ora forse romano prodi non ha vista questa lettera ognuno è libero di pensare quello che vuole però quando io poi decisi nel mio intimo che non avrei potuto più diciamo essere rappresentante l'istituzione in un governo di quel genere e detti le dimissioni dal mio incarico fu invitato ad una colazione di conciliazione cui erano presenti il capo di stato maggiore della difesa ammiraglio di paola il ministro della difesa dell'epoca parisi arturo parisi il sottosegretario alla presidenza del consiglio enrico letta e il presidente romano prodi ad essi confidai la mia amarezza l'argomentai in maniera molto diretta senza verbi al condizionale senza molti aggettivi in una forma diciamo protocolarmente corretta ma molto pesante nella sostanza e al termine di questa di questo mio intervento presidente prodi mi chiese scusa appunto dicendo quello che ha detto prima che era stato colto di sorpresa che non sapeva nulla di di ustica e quindi questo provvedimento lo ha adottato nell'ignoranza della questione del dossier tante che mi chiese cosa poteva fare per riparare a questo torto che ha fatto all'aeronautica io gli chiesi tre cose nessuna delle quali è andata a buon fine la prima una dichiarazione stampa che mi ricordo fu fatta ma che diceva non dice anzi diceva niente la seconda quella di prendere come consigliere militare un ufficiale dell'aeronautica il generale stefano panato il mio collaboratore di sempre affinché anche plasticamente fosse visibile che lui non ce l'aveva con l'aeronautica e anche questo non fu fatto la terza cosa che ancora ha diciamo delle potenzialità anzi dell'effettività oggi era quella che riguardava il museo dalla memoria di bologna allora all'epoca sapevo che soprattutto ad opera di daria bonfietti presidente delle associazioni famiglie delle vittime aveva intenzione di diciamo creare un museo dalla memoria cosa che poi è stata fatta il sospetto era che il museo narrasse della battaglia aerea come causa della tragedia e quindi in questa previsione chiesi al presidente prodi di fare in modo che questo museo rispicchiasse la verità così come era emersa dal processo penale ricordo che il presidente prodi dopo pochi giorni devo dire la verità pregò sergio cofferati di venire il mio ufficio era il sindaco di bologna al signor cofferati riferiti queste mie angustie di questi miei cruci di queste miei perplessità di queste miei ipotesi fu rassicurato a che questo non accadesse mentre invece è successo esattamente quello che temevo per cui anche oggi andare al museo della memoria si troveranno le tracce più che evidenti i fatti che fanno risalire diciamo la tragedia del 19 italia proprio ad una battaglia aerea quindi potrei diciamo citare tutta una casistica di comportamenti della politica e delle istituzioni diciamo rappresentate da certa politica tutte dello stesso segno anche oggi e sicuramente anche domani fino a quando speriamo non si addivenga finalmente a conoscere la verità ea fare in modo che tutto questo cessi perché è veramente questo è un esempio molto negativo del quale però io faccio fatica a capire come mai la controparte non se ne impossessi ecco la controparte politica in cui si parla di tutto molte volte di questioni di lana caprina di questioni inesistenti e non si chieda ragione del perché in tutti questi anni questo questi partiti si asignano adoperati affinché la verità venisse sistematicamente occultata da queste mistificazioni che tale si sono rivelate nel processo penale e che invece ancora oggi la fanno da padrone senza che ci sia una reazione anche in quel mondo e soprattutto in quel mondo affinché la verità possa essere finalmente perseguita perché dico questo perché noi ci siamo costituiti in associazione un'associazione che si chiama esattamente associazione per la verità sul disastro aereo di gustica abbiamo cominciato in 5 6 ora siamo un'ottantina tutte persone dal profilo molto simile cioè servitori dello stato come che hanno cercato sempre di servire con onestà con lealtà la collettività e che oggi stiamo cercando di stimolare la magistratura ad indagare purtroppo ci scontriamo con una certa sonnolenza della magistratura che non ritiene di dover continuare ad indagare soprattutto nella direzione che noi abbiamo indicato molto chiaramente abbiamo indicato due piste che a noi sembrano molto interessanti ma non intuito persone perché ci sono degli elementi fattuali molto importanti e molto preoccupanti che sicuramente stimolano a fare delle verifiche che purtroppo la magistratura ritiene di non fare noi continueremo a batterci in tutte le sedi in tutte le maniere affinché diciamo possiamo conseguire un risultato allora un risultato che va da un risultato minimo che quello di non fan consegnare alla storia una cronaca marcia così diciamo contaminata così diciamo non veritiera così basata su fan d'oggi su vere proprie bugie mistificazioni perché se noi non facessimo nulla diciamo la tragedia di uscica passerebbe alla storia come quella di una battaglia era non si sa condotta da chi e non si sa anche per quale motivo o con quali responsabilità mentre invece noi già ci accontenteremo come risultato minito minimo di fare in modo che alla storia perlomeno venga consegnato un dubbio qualcuno dice che è stato un missile qualcuno dice che è stata una bomba questo il minimo e questo come lo conseguiremo facendo esattamente quello che io sto facendo in questo momento cioè diciamo cogliendo qualunque opportunità e ne stiamo preparando molte perché la gente comune così mal informata nel corso di tutti questi anni non possa sentire anche un'altra versione che poi è quella veritiera risultato massimo invece che noi non diamo come disperato e quello che la magistratura indaghi indaghi in quelle direzioni che noi abbiamo indicato una fa capo al terrorismo palestinese un altro fa capo al terrorismo di stato libico a gheddafi e argomentiamo tutte queste nostre supposizioni con il giudice sperando che insomma il magistrato se ne occupi recentemente mentre sto parlando è in avvicendamento il procuratore capo di roma io spero che il nuovo procuratore il nuovo magistrato a capo della procura giuseppe amato diciamo assuma questo incarico questo onere e possa finalmente possono essere avviate le indagini serie che non disperiamo che possano portare anche un risultato concreto questa storia ha segnato ecco più di metà del mio percorso è stato un po una colonna sonora purtroppo non tutti in aeronazi diciamo che un errore che l'aeronautica ha compiuto oltre al primo errore fondamentale di tacere perché l'aeronautica la scelta fu di tacere nell'attesa che la magistratura indagasse e che la giustizia facesse il suo corso e mai decisione fu più improvvida ecco però dicevo che anche all'interno dell'aeronautica ci sono molti giovani ufficiali ma anche meno giovani che non conoscono la verità abbiamo evitato noi a suo tempo proprio per questo silenzio anche di fare uno staffing in interno una comunicazione interna che portasse almeno tutti quelli con la stessa divisa a sapere esattamente come fossero andate le cose grazie a tutti 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 grazie a tutti